Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avete letto dal titolo andiamo alla ricerca di grossi reali però non tutto secondo i piani, secondo voi cosa succede? Dato che siamo in chat dal vivo, ora se siete arrivati subito alle 13 provate a scrivermelo qua di fianco e vediamo chi indovina dunque mi raccomando lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete corriscritti mi raccomando superiamo i 120 mi piace per tutto quello che succederà, preparatevi e se non ci credete aspettate a vederlo mi raccomando non fate quelli del bacino accorto quindi lasciate questi like dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video ok 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 bello bello, bello, bello Tommy, Tommy è bello, è bello Questo è un 36 circa, guardate è entrato e uscito l'amo Ecco qua, teniamo un attimo in acqua Ok, filma e rilascio Ok, guardate che bellezza, guardate Ciao Bella, guardatelo là sotto Bella Ciao Bella, guardatelo là sotto Bella C'è troppa corrente Ah sì, là c'è sporco Ah sì, là c'è sporco Ah sì, là c'è sporco Preso, Tommy, grosso Sì, è grosso Sto sbobinando È grosso, è enorme Sì, vuole tagliare Sto cercando di tagliare È enorme È enorme, è enorme Sto cercando di tagliare È enorme Non lo so Tira Se tira Mettiamo in piega questa canna Spostati che devo Sto cercando di tagliare Sto cercando di tagliare Sto cercando di tagliare Sto cercando di tagliare Scopi Sto strusciando il trecciato e il filo Sì, mi hanno detto che mi hanno fatto così Mi hai preso morto? Non lo so, è grosso Vieni più per di qua Adesso è che lui mi porta di là Ci vorrebbe un barchino perché là è andato ad impiantarsi Secondo te era come tira? Non so, tira tanto Non lo so, so solo che è grosso E i siluri qua dentro? E i siluri? Ho visto come tira prima Ma è andato anche sotto di là prima No, è andato avanti Prendi il guadino Eh vabbè, io proviamo Io proviamo Lucio, è un lucio È un lucio? Sì No, ma va A me sembra un lucio A me sembra un lucio Se mi lo fai caro Ah no, è una carpa Eh, ti ho detto a me Ho visto la coda rossa e sembrava un lucio Sì Sì Sì, sì, per la bocca Mangiato Un bel lucio ho visto la coda rossa Sì Eh, paraquattro, carri cinque Anzi Sì Quattro, barri cinque Ci stiamo Tarando Faccato, attento di un tira Oh no, vedi la cosa sì però ha toccato ha mangiato è che lo sciato è lungo o magari tu stavi alzando da eric no 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 ha proprio portato via sì sì un attimo lo so appena fuori fermo 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 no lo so che se vuole ripartire vai 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 ok maschio pure maschio poggia qua poggia qua ma fare maniera va bene siamo tutti aspetta guarda la bocca si guarda la testa sotto gli occhi che dettagli io già fai allora Guardate che va a perdere qua. Vai. Ma ha spinning? Si. Mi ha fatto fare questa roba, ha fatto sempre girata. Ah così via. Vai. Alla prossima.